Grazie. Il mister avviene dopo. Possiamo cominciare con le domande per Anghissà. L'evento di uno, Tittimicroca, sarà una partita importante quella di domani sera. Quanto il rinvio ha influito su di voi e soprattutto dopo la bellissima prestazione con il Liverpool. Contate di poter ripetere una prestazione del genere? Io credo che sarà un giro, come hai detto, e siamo venuti qui per vincere questo gioco. Abbiamo fatto tutto per vincere questo gioco. Prendiamo come una squadra, come la famiglia che siamo. E sappiamo che sarà difficile perché è un buon squadra, hanno molto qualità. Prendiamo a casa, vogliamo vincere questo gioco. Penso che abbiamo bisogno di concentrare questo gioco. Non mi ricordo che non abbiamo bisogno di concentrare questo gioco, perché il passato è il passato. Abbiamo bisogno di concentrare questo gioco. Come ho detto, abbiamo bisogno di giocare il gioco per gioco. E oggi il gioco è contro i Rangers. Abbiamo bisogno di concentrare questo gioco perché è un buon squadro. e sappiamo che il gioco sarà difficile. E abbiamo bisogno di concentrare questo gioco. La domanda che era in italiano, ma è la domanda che è la domanda che è la prima volta qui. E cosa pensi di giocare in questo gioco? E' qualcosa che ti senti? Especialmente dopo il buon start che hai avuto l'ultima settimana. La risposta è che sarà una partita molto difficile. Però, per essere precisi, siamo qua per vincere. Vogliamo vincere come la squadra e la famiglia che siamo. Per forza sarà difficile, perché anche loro sono una brava squadra. E non dimenticare che i Rangers gioca a casa. Dobbiamo essere focalizzati. Dimenticare la partita contro il Liverpool. Andiamo passo a passo. Però non dimenticare che anche i Rangers è una brava squadra. Radio Ghis Khis. Salga Ghisar, quella con Liverpool è stata la sua prima partita in Champions. Ed è stata una delle più belle sicuramente che ha giocato qui a Napoli. Invece tra tutte quelle che ha giocato è stata tra le migliori della sua carriera? Grazie. È stato il mio primo gioco in Champions. E ho stato molto felice. Perché, come hai detto, ho fatto un buon lavoro. Ho stato felice perché la mia squadra viva questa squadra. è la mia squadra viva questa squadra. La risposta è sì. È stata la mia prima partita nella Champions. Io sono molto contento. Io sono contento perché abbiamo vinto. Però la cosa più importante per noi è che la squadra ha vinto. Quando la squadra gioca bene, anche io gioco bene. Però continuiamo così. Ma non dimenticare che la partita domani è contro i Rangers. Gazzetta dello Sport. Rispetto all'anno scorso, è cambiato qualcosa per te? Ti vediamo più decisivo negli ultimi 20-30 metri. L'assist per il Colasteria a Roma. Il gol particolarmente bello con il Liverpool. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa in te nel modo di giocare per vederti più protagonista negli ultimi 20-30 metri? No, io credo. Io continuo a giocare come la settimana. La settimana io dovrei scorrere per fare un, due, tre golvi e fare alcuni massi è solo perché non è accaduto. Ma non ho cambiato. Io continuo a lavorare come la settimana. Io credo che oggi ho più confidato perché ho sentito da miei amici e da miei amici che sono un altro giro. Sono uno dei nuovi leader del team. e tutte queste cose possono farci me cambiare. Ma non credo che ho cambiato molte cose o molte cose. Sono i stessi giocatori. Io gioco con le qualità. Io vedo che posso scorrere, posso fare alcuni massi. Ma il mio primo lavoro non è di doverlo. Abbiamo dei giocatori, abbiamo degli offensivi. Io voglio fare il mio lavoro. Scorre un gol o fare alcuni massi non è più importante. e lo più importante per me è for me è per venire con il mio team. Sì, la domanda è stata cosa ti credo che abbia cambiato molto. Come ti abbia cambiato in ultimo anno? Abbiamo avuto un po' più resistenza e ovviamente un gol contro il Liverpool. Come ti credo che ti abbia cambiato? Per quanto riguarda l'anno scorso io dovevo segnare di più. Però io non credo di aver cambiato tanto. Io lavoro duro ogni giorno. Oggi mi sento più sicuro di me perché la squadra e il mister mi aiutano a cambiare un po'. Di nuovo io non ho cambiato molto. Siamo gli stessi giocatori. Io so che io posso segnare. Però abbiamo anche gli attaccanti. Io voglio soltanto giocare bene e vincere è sempre la cosa più importante. Il mattino. Ciao, friend. Conosci l'atmosfera di questi stadi? Il pubblico, la gente, il calore, il tipo? Non ci sono barriere. Cosa non dovete fare come errore domani nella partita? Sì, io con te. Ho visto alcuni video. Sì, che domani sarà molto caldo. Sì, io credo che siamo pronti. Siamo pronti per giocare questo gioco. e la mia domanda che non dovete fare per me è come venire come la squadra. come la squadra vincente, perché bisogna essere amici, perché questo team, credo a me, ho visto alcuni video, hanno molto qualità, e noi veniamo qui per vincere questo gioco, ma per vincere questo gioco, bisogna rispettare loro, bisogna giocare insieme, bisogna giocare tutto insieme, giocare come una squadra, e come questo per me, non può succedere, quindi abbiamo bisogno di giocare con la respecta, amici, e do il nostro lavoro, quindi il problema che non abbiamo bisogno è come qui, ok, è una buona squadra, ma siamo migliori, no, in football tutto può succedere, e noi sappiamo che è un gioco, 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 e abbiamo bisogno di fare il nostro gioco per vincere questo gioco. The question was about, basically, what do you think about the atmosphere is going to be like here, there's not any barriers around there about anything else, and it's going to be a very, very full atmosphere tomorrow, what do you feel about that, is there any things that you shouldn't not do during the game? La risposta, anche io sono d'accordo, ho visto dei video, dei clip, qua sono sicuro sarà un'atmosfera incredibile, però siamo pronti, è importante non spagliare o pensare che sia un gioco, siamo qui solo per vincere, che sarà facile, sì, lo sappiamo che anche loro è una grande squadra, però dobbiamo rispettarli, dobbiamo giocare come una squadra, dobbiamo giocare con rispetto, perché non possiamo pensare che sarà una partita facile, tutto può succedere. Andre Frank, l'atmosfera tomorrow will be a unique one for a Champions League game, given there's only home supporters, has there been a lot of chat amongst the squad, have you wondered about the importance of togetherness in particular for this game, considering you will have no Napoli supporters at this match? Yeah, you know, you know, it would be hard to play without them, but we know that they're with us, they're with us, and you have to get our best for them also, because we know that they continue to push us, even if they're not here, but in our hearts, we know that they're with us, so our job is to give everything for them, because we know that they're with us, even if they're not in the stadium, and for me, if they're here, or they're in Napoli, we know that they're with us, and for that we have to give our best for them also. Allora, cosa ti aspetti dall'atmosfera, e sarà unica, anche del fatto che non ci sono i vostri tufosi, Che cosa pensi tu e anche la squadra del fatto che non ci saranno i tifosi? Ovviamente è difficile giocare senza i nostri tifosi, però sono sempre con noi, ci spengono sempre, anche se non ci sono proprio lì, che è qui. Dobbiamo lasciare tutto sul campo, tutto contro i Rangers, e per me, se i tifosi sono qua o in Italia, sono sempre nei nostri cuori. È ok, altre questione per Languistan? Calcio Napoli, Miner, Calcio Napoli 24. Ciao Frank, volevo chiederti se personalmente ti senti nel miglior momento della tua carriera, e se è anche una piccola rivincita nei confronti magari della Premier che non ha credito in te, fortunatamente aggiungo io, e ti ha fatto arrivare qui a Napoli. Grazie. 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 Grazie avui. per migliorare, per lavorare e per migliorare, perché in fútbol ti ho sempre apprezzato, e questo è quello che sto cercando di fare. Non posso dire che questo è il miglior momento della mia carriera, sono contento di vivere quello che ho vivuto, quindi non è una rivoluzione, perché in fútbol tutto può succedere, e tu puoi essere qui, e dopo tu puoi essere qui, quindi sto cercando di fare questo fútbol. La questione era, personalmente, do you think this is the best moment of your career, especially being in other clubs or in other leagues where maybe they felt like they haven't believed in you as much? Non so se questo è il momento più bello della mia carriera. Per essere giocatore, è importante credere e migliorare ogni giorno. io non posso dire che è il momento più bello della mia carriera. In fútbol e in calcio tutto può succedere. Ok, grazie. Grazie Frank. Prego.